La decisione del Governo di inviare al Cairo l'Ambasciatore Giampaolo Cantini prende innanzitutto atto degli sviluppi registrati nella cooperazione tra gli organi inquirenti di Italia ed Egitto e di cui ha fatto stato il comunicato congiunto delle procure cui avevo accennato in precedenza. Del resto il richiamo dell'Ambasciatore l'anno scorso fu ritenuto uno strumento di pressione soprattutto per ottenere più cooperazione giudiziaria. La stessa procura di Roma aveva registrato sin dal dicembre del 2016 segnali positivi in tal senso e prima di ferragosto come ho ricordato prima ci sono stati gli ulteriori incoraggianti sviluppi annunciati dal comunicato delle due procure. L'invio di Cantini costituisce quindi un atto politicamente conseguente. Voglio qui ribadire che inviando al Cairo un diplomatico di comprovata capacità ed esperienza nell'area mediterranea e mediorientale come Cantini il Governo intende rafforzare il proprio impegno politico e morale al perseguimento della verità sulla tragica scomparsa di Giulio.